Per ora accordi all'orizzonte non se ne vedono, anzi il sindaco Lucio Greco, almeno in questa fase, sembra uno di quelli più convinti nel voler arrivare ad uno scioglimento anticipato del contratto con Caltacqua ritenuta inadempiente. Il presidente ATI Massimiliano Conti ha invece spiegato anche al Consiglio Comunale che sarebbe una mossa azzardata soprattutto nel tentativo di non perdere il treno degli investimenti. I disservizi in città sono all'ordine del giorno e tanti quartieri sistematicamente si trovano a non avere regolari forniture. Dagli uffici dell'azienda italo-spagnola addirittura ritengono che tra i morosi ci sia proprio palazzo di città come abbiamo anticipato nelle scorse settimane. Il municipio non avrebbe versato canoni arretrati per le forniture di immobile uffici dell'ente per almeno 410.000 euro. A tanto ammonte il decreto ingiuntivo fatto notificare il municipio ad inizio luglio. L'Aggiunta ha dato mandato di opporsi e adesso è stata formalizzata la nomina del legale che avrà il compito di sostenere le ragioni dell'ente. L'incarico è stato affidato all'avvocato Patrizia Comandatore, un atto formale necessario per resistere ad una richiesta pesante che i dirigenti del comune escludono possa avere fondatezza dopo le valutazioni condotte in municipio. Si ritiene infatti che non ci siano fatture insolute. Dopo i tavoli di confronto per tentare di arrivare ad un servizio perlomeno adeguato ora Comune e Caltacua si confronteranno davanti al giudice. Un importo da oltre 400.000 euro sarebbe decisamente pesante da sostenere per le casse dell'ente in una fase nella quale peraltro i disservizi idrici in città proseguono.